Nel novantesimo anniversario della nascita di Anna Frank, la compagnia del Teatro Belli, in collaborazione con la compagnia Mauri Sturno, metterà in scena in esclusiva per l'Italia il diario di Anna Frank, dal 23 gennaio al 16 febbraio 2020, nella storica sede di questo teatro, il Teatro Belli di Roma, diretto dal sottoscritto. Il Teatro Belli, che compirà a breve 50 anni di attività, si è sempre distinto per le sue scelte artistiche coraggiose indirizzate all'impegno civile e culturale. Perché Anna Frank, questo dramma teatrale, premio Pulitzer per la drammaturgia del 1956, tratto dal diario di Anna Frank e da parecchi anni che non viene rappresentata in Italia. Fra le messe in scena più riuscite si ricorda l'eccellente edizione del 1957 della Compagnia dei Giovani, con Anna Maria Guarnieri nel ruolo di Anna Frank e Romolo Valli e quella di Giulio Bosetti del 1977 con Nada. Oggi questo spettacolo è rivolto soprattutto ai giovani ed è necessario che, mentre gli ultimi testimoni diretti muoiano, la memoria si sedimenti e prenda voce nelle nuove generazioni. Gli eventi di queste ultime ore sono sotto gli occhi di tutti, ci hanno reso oltresì consapevoli dell'importanza di questo progetto sulla memoria. La comunità ebraica si è resa disponibile a collaborare per la realizzazione di questo spettacolo, con la partecipazione dell'Unione della Comunità Ebraica Italiana, Fondazione Museo della Shoah, Centro Ebraico Italiano Pitigliani e l'Associazione Progetto Memoria. Cari amici, vi chiedo di sostenere questo progetto che per noi è un grandissimo sforzo produttivo. Colgo l'occasione per ringraziare la compagnia Mauro Esturno, che con noi produrranno questo spettacolo e quindi vi aspetto tutti il 26 novembre alla Sala Pitigliani per la conferenza stampa di questo diario Diana Frank. Per sostenerci subito vi prego di cliccare il link in descrizione. Grazie a tutti!